Buon poveriggio e bentrovati dal Tg Crona, che dunque questa mattina i braccianti sono tornati a lavorare dopo la giornata di sciopero e di protesta per l'omicidio delle giovane migrante di 29 anni, sindacalista dei migranti e con regolare permesso di soggiorno che è stato ucciso sabato sera in provincia di Vibo, Valencia. Sono stati feriti anche altri due migranti. Sul fronte delle indagini potrebbero esserci degli sviluppi nelle prossime ore. Intanto i migranti hanno inchiesto un incontro con il neoministro del lavoro Di Maio, mentre poco fa, lo abbiamo sentito nel nostro telegiornale, è intervenuto sul caso il premier Giuseppe Conte. Lo Stato risponde, tre giorni dopo lo fa il premier in aula al Senato nel suo primo discorso per chiedere la fiducia. L'omicidio in Calabria del bracciante malese Sumail Sacò è una vicenda che il presidente del Consiglio Conte definisce inquietante. Il pensiero commosso non basta, sostiene, bisogna garantire la legalità. I senatori si alzano in piedi, applaudono a lungo. C'è chi è sotto la soglia della dignità, insiste Conte. Di tutt'altro genere l'intervento di stamattina del ministro dell'interno. Tre parole ironiche ad accompagnare un articolo del giornale. Colpa di Salvini, c'è scritto nel tweet postato dallo stesso Salvini che ieri sera, rompendo un silenzio durato due giorni, aveva risposto così ad una domanda sull'assassinio di Sumail. Certo che è grave. Non si risolve nessun problema sparando. Ci sono delle indagini in corso. Prima di dare una sentenza voglio capire alla fine delle indagini i nomi delle bestie che hanno compito questo gesto. L'immigrazione fuori controllo, numericamente fuori controllo, gli ammassi, le tendopoli, le baraccopoli, i ghetti portano inevitabilmente allo scontro sociale. Ogni mossa sembra dunque legata all'inchiesta. Si aspetta di sapere chi abbia ucciso il sindacalista maliano, mentre insieme a due suoi amici stava raccogliendo delle lamiere in una fonderia di smessa danni. Gli investigatori continuano a negare la matrice razzista, ma sembrano avere una pista precisa su chi ha puntato il milino contro Sumail e presto potrebbero esserci novità. Un cecchino che ha sparato con un fucile di precisione da almeno 60 metri uccidendo il bracciante e ferendo gli altri due. Sono stati proprio loro a fornire molte indicazioni. L'assassino dovrebbe essere un uomo bianco, anziano, fuggito su una panda di cui hanno indicato anche le prime due lettere della targa. Non è difficile individuarla. I carabinieri hanno effettuato anche diverse perquisizioni e ascoltato molte persone. La svolta potrebbe essere vicina. Intanto stamattini i braccianti, che ieri hanno pacificamente protestato per la morte di Sumail, sono tornati a lavorare nei campi della piana di Gioia Tauro. La baraccopoli di San Ferdinando, dove vivono, è ancora presidiata dalle forze dell'ordine, ma la situazione è tranquilla. Il rischio è che tutto torni come era prima, come è da anni. I braccianti che lavorano per ore con una paga da miseria all'ombra dell'andrangheta e le autorità che non si muovono. Ieri i rappresentanti sindacali dei braccianti hanno incontrato le autorità locali. A loro hanno chiesto un incontro con il neo ministro del lavoro, Luigi Di Maio, per parlare di diritti violati. Una richiesta poi ribadita pubblicamente, ma fino ad ora non c'è stata alcuna risposta. E quindi, come appare evidente, la questione migranti diventa quindi sempre di più stringente attualità, anche alla luce dei nuovi cambiamenti che sono stati ventilati da Salvini, che ha ipotizzato l'apertura di un CIE, un centro di identificazione ed espulsione in ogni regione. Questo, mentre prima appunto si privilegiava, invece l'accoglienza diffusa in tutto il territorio e queste sono le reazioni. Il fronte del nord targato Lega si compatta, anche se con qualche distinguo, e dice sì alla linea del ministro Salvini. Servono centri per espellere gli immigrati clandestini, annunciava da Pozzallo, e la possibile apertura in ogni regione di nuovi CIE, i centri di identificazione ed espulsione, trova il sostegno dei governatori di Veneto e Lombardia, con il Placet dei Cinque Stelle e Friuli Venezia Giulia. Per Luca Zaia possono essere utili. Chi non ha diritto a stare in Italia non può girare per le strade delle nostre città, ha detto, ma se non ci fosse un programma organico, il governatore del Veneto sarebbe contrario. Stessa linea quella di Attilio Fontana, se i CIE servono per consentire che gli immigrati vengano qui ricoverati e poi spediti a casa loro benvengano, dice il presidente della regione Lombardia, che punta il dito contro i lunghi tempi di attesa per decidere se un richiedente ha diritto o meno all'asilo, con il rischio che una volta ottenuto si ritrovi alla fine, per strada, senza un lavoro. Appoggio totale anche dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Fedrica. Io ho già dato disponibilità per il Friuli Venezia Giulia a farne anche più di uno. Appena partirà il piano nazionale farò un confronto con gli enti locali, con i comuni, per fare un piano con di guido. Ci sono già dei comuni che hanno dato disponibilità, penso al comune di Trieste, al comune di Gorizia, che hanno già detto che siamo pronti. Sono convinto che tutti i sindaci chiederanno, piuttosto che dell'accoglienza diffusa, prevediamo un centro di questo tipo. Non vede invece di buon occhio l'apertura di nuovi CIE il sindaco di Cona, in Veneto, che l'anno scorso si è trovato a gestire le proteste dei migranti, ospiti nell'ex base nato di Conetta. Oggi nel centro ci sono 570 richiedenti asilo, progetti di accoglienza diffusa sul territorio, ma l'idea di aprire nuove tendopoli, così il sindaco Panfiglio chiama i nuovi possibili CIE, deve essere supportata da progetti ben chiari per definire in tempi brevi chi può rimanere e chi no nel nostro paese. In realtà, ben più grandi come il comune di Milano, abituato a gestire ogni anno migliaia di migranti, fa sapere che si atterrà alle leggi in vigore, ma l'assessore alle politiche sociali ribadisce che la linea sull'accoglienza rimane, i CIE sono un'arma di distrazione di massa, dice Maiorino. Perché se tu vuoi espellere attraverso i CIE, avresti bisogno di 500 nuovi centri dove mettere le persone irregolari. Ne vogliono fare uno per regione, ma perché non è possibile oggi pensare di espellere mezzo milione di persone. Questo è il punto che bisogna avere il coraggio di spiegare agli elettori. Resta comunque da affrontare lo scoglio dei tagli annunciati da Salvini alla spesa per l'accoglienza. Ma intanto nel Mediterraneo si continua a morire, il pensiero va a quel terribile neofragio di domenica scorsa a largo della Tunisia. L'ultimo bilancio parla di almeno 100 morti e proprio con la Tunisia si è sfiorato l'incidente diplomatico. Si è attenuata la dura polemica tra Italia e Tunisia dopo la frase pronunciata dal neoministro dell'interno Matteo Salvini sui galeotti che partono dal paese africano per approdare sulle nostre coste. La prima reazione del governo di Tunisi è stata di indignazione per quello che è stato ritenuto un attacco ingiustificato e inaccettabile. Ma oggi i toni sono già cambiati e la diplomazia sembra aver ripreso il suo corso in nome del comune interesse a cooperare nella lotta contro l'immigrazione irregolare. Lo stesso Salvini ha incaricato l'ambasciatore di comunicare alle autorità tunisine di essere pronto ad incontrare il suo omologo di Tunisi anche per limitare gli sbarchi. L'ultimo sfociato in tragedia domenica scorsa a largo delle isole Kerkena sulla costa orientale della Tunisia. Sull'imbarcazione fragile e sovraccarica c'erano 180 persone, sarebbero 112 le vittime. Il naufragio più grave è registrato nel Mediterraneo quest'anno, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Mentre sul posto proseguono le ricerche dei dispersi, nella città costiera di Sfax si sono raccolti i familiari di chi non è stato ancora ritrovato e attendono notizie. Tanti non sanno se possono ancora sperare come quest'uomo. Non so nulla di mio figlio, non compare nella lista delle vittime, nemmeno in quella dei superstiti. Non ci sono notizie, nessuno si cura di noi. Svegliamoci, stiamo perdendo i nostri giovani che qui non hanno un futuro, non possono costruire una casa, non possono sposarsi, dice un'altra persona. La difficoltà più grande di vivere in Tunisia è che si sono chiuse tutte le porte verso il futuro. Ma tra i fatti di cronaca di oggi c'è anche la nuova operazione contro la rete che protegge la latitanza di Matteo Messina Denaro. Tra gli indagati c'è anche l'ex medico di Matteo Messina Denaro. A lui è stato sequestrato un tablet ed un computer, mentre ad un altro boss sono state sequestrate delle lettere. Diverse armi sono state trovate in possesso di un altro presunto fiancheggiatore. Dalle ultime perquisizioni fatte dalla squadra mobile di Trapani a 17 persone vicino al boss di Castelvetrano sono stati sequestrati documenti definiti di elevato interesse investigativo. Tracce importanti in possesso dei sodali del boss latitante, ritenuto il capo di Cosa Nostra, da 25 anni sparito nel nulla. Nel mirino degli inquirenti tutta la zona di influenza del mandamento, ferreamente controllato da Messina Denaro, Castelvetrano, Mazzara del Vallo, Partanna, Santa Niffa, Sala Paruta e Campobello di Mazzara. Gli investigatori cercano lettere, pizzini, indizi, smagliature nella rete dei fiancheggiatori della latitanza del boss. Oggi 56enne. 17 persone sono state indagate, tutti soggetti che storicamente hanno avuto stretti rapporti che ho messi in Adenaro. Ci sono nomi nuovi e vecchi del gota mafioso della provincia di Trapani. Ora la direzione distrettuale antimafia li ha sottoposti ad una nuova indagine con l'accusa di favoreggiamento della latitanza del capo mafia. Sono state perquisite abitazioni, terreni, attività commerciali e imprenditoriali. Sono state utilizzate anche attrezzature speciali per verificare l'esistenza di cavità nel terreno all'interno degli edifici, ovvero si cercano covi e bunker. L'obiettivo è di seguire ogni orma, ogni indizio per tenere alta la pressione sul territorio. Ad aprile un'altra indagine aveva portato in carcere 21 persone tra boss e gregari e aveva consentito di individuare la rete utilizzata da Messina Adenaro per lo smistamento dei pizzini con i quali dava le disposizioni operative agli affiliati. Un investigatore ricorda un dettaglio di quell'operazione che racconta il rapporto di assoluta fedeltà e di venerazione nei confronti del boss. Uno degli indagati intercettato dice di lui che bisognerebbe farlo santo. A dicembre un'altra operazione aveva consentito di arrestare altre 30 presunti mafiosi sempre per aver favorito la latitanza di Messina Adenaro. E questo è un caso che abbiamo seguito al Tg Crona che secondo le prime analisi di laboratorio sarebbe stato un batterio e non la salmonella a provocare l'intossicazione alimentare che ha colpito più di 130 persone. Sono soprattutto bambini della scuola di infanzia ed elementare di Pescara. La trasmissione nell'uomo è dovuta ad errate alimentari contaminate, in particolare di carne. Il batterio è stato individuato grazie alle analisi che sono state eseguite sui campioni dei primi bambini arrivati al pronto soccorso venerdì scorso. Molti comuni italiani avrebbero non interpretato bene la normativa sulla Tari che di fatto ha portato diversi cittadini, molti cittadini italiani, a pagare di più la tassa sui rifiuti. E quindi ora è possibile essere rimborsati ma la procedura per la restituzione appare piuttosto complicata. Secondo i calcoli delle associazioni dei consumatori, la cifra che i comuni devono ridare ai singoli contribuenti per la Tari tassa sui rifiuti, calcolata in eccesso tra il 2014 e il 2017, ammonta circa 400 euro, 100 all'anno. Come ridare quanto pagato ingiustamente? Se per chiedere è bastata la cartella esattoriale recapitata a casa, la restituzione è ben più complicata. Il problema se l'è posto il Comune di Milano che ha ammesso lo sbaglio e ha chiesto alla Corte dei Conti Lombarda come procedere per i rimborsi. I giudici contabili hanno stabilito che dovranno essere i giudici tributari o il Tar a dare il via libera al rimborso, valutando caso per caso. Dunque non potrà esserci alcuna restituzione automatica. Se i cittadini vogliono riavere quanto pagato in più dovranno accollarsi l'iter giudiziario, una soluzione che le associazioni dei consumatori giudicano inaccettabile. Si sposta all'onere della prova sul cittadino perché non è giusto che questi debba provare lui che il Comune ha sbagliato o comunque qualsiasi amministrazione abbia sbagliato e secondariamente tu non puoi chiedere che il cittadino paghi per far valere i propri diritti. A Milano si stima che circa 145 mila cittadini siano coinvolti nel calcolo sbagliato della parte variabile dell'imposta. Ma il problema riguarda molti più contribuenti perché errori sono stati commessi anche in altre città. Napoli, Genova, Ancona, Catanzaro, le più popolose. Gli altri comuni non hanno ancora affrontato il nodo dei rimborsi, ma è probabile che la sentenza della Corte dei Conti della Lombardia farà scuola e quindi migliaia di contribuenti dovranno chiedersi se conviene o no sobbarcarsi le spese necessarie a dimostrare di avere pagato più del dovuto. Tra l'iscrizione di un atto che costa 30 euro, le marche da bollo per circa 80 euro e l'inevitabile consulenza legale si fa presto a raggiungere i 100 euro annui che in media i comuni dovranno rimborsare. Da Palazzo Marino ribadiscono che non si poteva fare altrimenti. Il cittadino è chiamato a dimostrare di avere una pertinenza, ma questo non dicevo per un vezzo del Comune di Milano. Senza questo il Comune non ha minimamente nessuna facoltà per poter procedere al rimborso perché il cittadino non sarebbe titolato a riceverlo. Il Movimento 5 Stelle, che aveva sollevato il problema del conteggio sbagliato prima nei singoli comuni e poi con un'interrogazione parlamentare, non è soddisfatto della soluzione e chiede al Comune di Milano almeno di rifare i conti e informare ogni singolo contribuente su quanto gli spetta. Adesso vi lascio a Tagadà, subito dopo lo speciale condotto da Enrico Mentana sulla giornata politica. Arrivederci. Grazie a tutti.